di giorno già da qua sei immesso ok io mi campero qui come un treno che me l'hai ricordato come è stato come è vicino non ho fatto né Osiris né Montu né coso là una cacca ma va l'hanno rifatta questa slope questa è una f***** station questo è il modo da fare una stazione inverte oh mio dio Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.